Se hai riscontrato problemi riguardo al black screen schermo nero su Once Human che quando provi ad avviarlo si carica un po' e poi dopo c'è lo schermo intero, tutto nero, senti un po' di cose però non vedi il gioco. Quindi in questo caso il problema può essere risolto attraverso i driver per la scheda video, aggiornamenti su Windows Update, riavviamo il sistema e poi facciamo la verifica di integrità sul gioco e risolviamo subito. Quindi in questo caso in descrizione ho lasciato dei link che ti porteranno sulla pagina dei primi tre link di Microsoft Visual C++, quindi tu devi andare a scaricare così l'architettura RM64, tutti e tre scarichi e installi così questi driver. Uno di questi tre non andrà perché sicuramente non supporta il tipo di processore ma tu una volta scaricato e installato questi driver devi riavviare il sistema. DirectX Software, il kit di sviluppo software DirectX, scarichi e installi questo software. E poi c'è l'altro driver che si chiama DirectX Runtime, sempre in descrizione, quindi fai su scarica ed eccolo qua. Accetto il contratto, tolgo la spunta da qua, faccio avanti, inizializza e poi installa. Un'altra volta fatto facciamo fine. Se non dovesse funzionare andiamo direttamente, tasto destro su Start, gestione dispositivi. Per aggiornare la nostra scheda video dei driver che ci offre così Microsoft, scheda video, questa qua è la mia, aggiorna driver. Cerca automaticamente i driver oppure cerca i driver aggiornati in Windows Update, qui dice che già sono installati. Cerca i driver nel computer e scegli da un elenco di driver. Prendo questa, faccio avanti e installo così i driver per la mia scheda. E questo è per Nvidia. Puoi farlo direttamente su Nvidia App, quindi scarichi così il software Nvidia App. Vai su driver e qua scarichi e installi gli aggiornamenti per OneShuman. Per quelli invece che hanno AMD, sempre in descrizione, scarichi così i driver di Windows, scegli così la tua scheda grafica o il processore con una scheda grafica integrata all'interno. Invece per Intel. Ed eccoli qua. Scarica driver e software. E questo è il link che ti porterà a scaricare e installare i driver per Intel. Scarica ora. Una volta fatto, una volta scaricato i driver per la tua scheda video, andiamo su Windows Update. Verifica disponibilità, aggiornamenti. Ha un aggiornamento da fare, quindi lo faccio scaricare e lo faccio anche installare. Quindi ha completato tutto. Chiudo qua. Vado sulla rotella. Proprietà. File installati. Verifica integrità dei file del gioco. Una volta fatto tutto, riavvia il sistema per una bella pulizia. E adesso vado su gioco. A me il gioco si sta caricando. A me il gioco si sta caricando. Ecco che il gioco è andato senza nessun problema riguardo. Allo schermo nero perché io tengo sempre tutto aggiornato. Tengo tutto aggiornato i miei driver. Quindi tutti i driver per la mia scheda video. E molto altro. Quindi se hai altri problemi puoi commentare sotto al video. Cercherò di realizzare altre guide a riguardo. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.